popolo oh c'è il treno che va qua bisogna fare il salto ma qua la cassa è più lunga cosa c'è il mappa? delocche di lìva avvio video hai porto c'è stanno i sassi c'è stanno i sassi c'è stanno i sassi si è stanno i sassi c'è stanno i sassi ho fatto un numero lì oh puttana sono soffatto in softball in corner è rossi tu l'hai? come ti vedo io lo spagno sempre non capisco dove andate va va si qua eh guarda se fosse così il fondo eh si top così è top è uguale ecco cosa state? la prima volta che l'abbiamo fatto Dio ti ricordi? mamma mia c'è la morte proprio e qui si rientra ai cinghialoni ai cinghiali un bel sentiero cosa ci fa? non 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 guarda qua ci si è chiuso avanti si è chiuso avanti si è chiuso avanti no eh si vola e oggi si stende si è chiuso avanti si è chiuso avanti si è chiuso avanti non ha fogli volevo prendere largo per tagliare invece si è chiusa e non gliel'ho fatta vaffanculo ti crede? bello questo è più bello la sangra la sangra della la cinghialata l'hai ripreso? si me la guardo tutta me la guardo tutta ce la rugola qua raccoglio raccoglio spettacolare qua fantastico ecco il boschetto ecco qui scoglio d'indirizzo italy g soft Напр算 connects la di sguilla garna Sì, sì. Questa tira, questa tira, puttana. Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, se non la fai, la lanci, la lanci, tutta, 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 tutta. Sì, si, 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 si. Si, 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 si ha fatto male questo si? si, ha fatto male ha fatto male ma molto viva la mia onda al nord si è accappottata la telecamera si è accappottata la telecamera si è accappottata la telecamera grazie